La sua prima Pasqua, Alecco, che Pasqua sarà e qual è il suo augurio per questi giorni di festività? Celebrando i misteri pasquali in questi giorni mi sento pienamente prete, avendo la gioia di avere dei fratelli come me che camminano insieme alla Pasqua. È la prima volta che la celebro, presiedendo tutti i riti, non mi è mai capitato da prete. Ho sempre concelebrato con gli arcivescovi di Milano, nelle parrocchie in cui sono stato. Quindi è una gioia davvero piena assumere in pienezza i riti che celebriamo in queste feste. È una Pasqua che vuole toccare i cuori di tutti, quelle che il Signore ci offre, soprattutto di quelle persone che non vedono luce nella propria vita. Con la sua risurrezione e con la sua croce il Signore ci dice che laddove c'è la morte, laddove c'è la disperazione, laddove c'è il buio, c'è l'incomprensione, c'è la possibilità di una rinascita. La rinascita viene solo da una via, è la via della croce, cioè la via dello stare dentro alla sofferenza e trovare il modo per amare sempre di più, anche laddove sembra non esserci speranza, dove sembra non esserci possibilità di riconciliazione e di perdono. La forza della Pasqua sta in questo. Monsignore, cosa hai trovato qui a Lecco? Ho trovato una grande disponibilità, una grande voglia a seguire il Signore, a fidarsi della Chiesa, a camminare come comunità. Questa è una grande consolazione per me e mi dà lo stimolo, la forza per fare sempre meglio, soprattutto per diventare discepolo anch'io di Gesù Cristo e seguire questa croce e di gioire con tutti i Lecchesi della Pasqua di Ressurrezione. Una Pasqua dunque per lei forse in qualche modo ancora più emozionante quest'anno? Sì, emozionante e insieme all'emozione c'è l'approfondimento di questi misteri della fede che celebriamo, quindi è un compimento totale. Sono proprio contento, come una Pasqua si direbbe. Grazie.